Allora bene, ringraziamo tutti i partecipanti qua, si sta mangiando bene e bene meglio direi, insieme al maestro Fabietti alla tromba, tanta roba buona da mangiare, pochetta, salsicce, gli odoriamo Daniele, arrivata la pizza, in punta e in traspetta, siamo tutti contenti di essere presenti qua e auguriamo andare a tanta salute, tanta sanità e tanti divertimenti per i prossimi anni a venire. Grazie. Roberto, prima tromba. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cin cin. Salute ragazzi. Salute. Cin cin di nuovo, ne ero pronto. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin.